Il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi e il dirigente del dipartimento per l'esercizio dei porti di Brindisi e di Monopoli Aldo Tanzarella sono indagati per il reato di crollo colposo per l'incidente verificatosi nella notte di maltempo tra il 4 e il 5 novembre scorsi quando due container utilizzati per i controlli di sicurezza doganali a costa Morena Est furono portati via dal vento provocando il ferimento di una guardia giurata e di un finanziere. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati ieri mattina prima di un'ispezione dei luoghi per ricostruire la dinamica dell'incidente effettuata dai militari della guardia di finanza di Brindisi alla presenza del PM Luca Miceli che era di turno nelle ore in cui è avvenuto il fatto e del PM titolare dell'indagine sulla recensione portuale e sulle opere di security Raffaele Casto il cui procedimento giudiziario è tuttora in corso. Nella notte del 4 novembre a causa di una tromba d'aria due dei container utilizzati per la vigilanza al varco di costa Morena Est vennero sradicati e scaraventati a diversi metri di distanza. Un gabbiotto finì sulla strada a ridosso del guardrail un altro in un terreno attiguo nei pressi di un canneto. Una donna di 30 anni guardia giurata della Securepol Puglia e un giovane finanziere rimasero feriti in maniera per fortuna non grave. La vicenda dei varchi per la sicurezza del porto è al centro di un processo penale in corso davanti al tribunale di Brindisi. Quei gabbiotti erano stati autorizzati dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche in maniera temporanea e sino al marzo 2019 ma sono tuttora in funzione.